Consac delinea il bilancio di un'estate positiva sul fronte dei servizi idrici al netto ovviamente di qualche sbavatura che comunque sarà lo sprone per fare ancora meglio nel 2022. Così gennaio Maione presidente di Consac che prosegue innanzitutto e non mi sembra poco questa è stata la prima stagione estiva dopo oltre un quarto di secolo senza problemi collegati alle forniture nelle aree di Monte Corice, San Mauro e Acciaroli Pollica dove sono stati completati interventi già programmati da un paio di anni assieme ad altre opere realizzate nel golfo di Policastro a Camerota da Scea Marina. Nonostante il bilancio sia stato positivo ricorda il presidente di Consac ci sono stati piccoli problemi come quello registrato fra il 16 e il 17 agosto dovuti a improvvise rotture della principale condotta quella del faraone ma anche rispetto a questi eventi precisa Maione nel periodo di maggiore richiesta idrica i disagi sono stati limitati rispetto al passato quando senza acqua restava un'area vastissima da celle di Bulgaria ad Acciaroli. Ora il problema è stato limitato a pochi comuni e per un tempo relativamente breve rispetto a queste improvvise rotture della condotta principale siamo fiduciosi. Si sono infatti risolte annuncia il numero 1 di Consac le vertenze giudiziarie pendenti dinanzi al Consiglio di Stato e quindi a settembre partiremo con la sostituzione di un primo lotto più vecchio e non basta Consac è positiva e fiduciosa anche perché ci sono altre progettualità esecutive avviate sul faraone e che sono in attesa di finanziamenti alcuni anche in parte già ottenuti dalla Rera.